Sono partite oggi da Termoli con destinazione in Roma le reliquie di Santimotio, il copatrono della città e della diocesi. Rimarranno nella capitale fino al 26 gennaio, giornata in cui si celebra la Domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco. Il pellegrinaggio delle reliquie è stato accolto e voluto dal Santo Padre. Si tratta della prima volta in assoluto ed è un evento eccezionale per Termoli e per la diocesi che ha organizzato il pellegrinaggio. Oggi in cattedrale c'è stata una celebrazione in occasione della partenza dell'urna che contiene le spoglie del discepolo e figlio prediletto dell'Apostolo Paolo. Con profonda gratitudine ma anche con un senso forte di responsabilità perché queste circostanze sono un'interpellanza prima di tutto alla nostra esistenza cristiana, personale e anche comunitaria. È un'occasione questa che il Papa ha provocato che è una grazia per me prima di tutto e penso anche per tutta intera la nostra diocesi, quelle di rientrare in un ascolto profondo e obbediente della Parola di Dio. Da oggi fino al 25 gennaio l'urna sarà esposta sull'altare della confessione della Basilica di San Paolo fuori le mura. Il 22 gennaio è prevista la visita della diocesi a Roma sulla tomba di Pietro con oltre mille pellegrini e poi l'udienza dal Papa. Domenica 26 gennaio invece le reliquie saranno trasferite nella Basilica di San Pietro in Vaticano dove alle 10 ci sarà la celebrazione eucaristica preseduta da Papa Francesco. Alle 18 è previsto il rientro a termoli dell'urna che sarà accolta con una messa celebrata dal Vescovo De Luca, un evento storico per la città. Storico perché unico nella vita e nella storia della Chiesa. Il corpo di San Timoteo che raggiunge in Roma nella Basilica di San Paolo fuori le mura il suo padre e maestro nella fede come Paolo stesso definisce Timoteo in una delle sue due lettere a lui indirizzate.